Però, beh, le volevo dare una cosa, posso? Certo. Queste qua sono le canamelle che non avevo trovato. Sì, quelle che mi dicevi ieri. Eh, certo. Grazie. A proposito, le rosse le ho compromette stamattina, la storia è uscita dopo. No, no, la storia è stamattina. Aspetta, che io la storia l'ho messa stamattina. Eh, le ho le nove, già le avevo comprate. Io le ho messa stamattina. A posto, io le ho le nove, già le avevo comprate. Comunque bellissime, queste sono nuove. Che c'è Barbara? Lo scontrino così guardiamo l'orario, se è vero quello che dice. Io le ho messa stamattina. Eh sì, eh. Le nove. Le nove, dietro. Da quanto scontrino? Che ora le hai prese? Qua dietro. La prese dopo. No, veramente ho girato mezza a Roma, però a Roma ci sono tanti chioschi, no? Quindi ti ha dato fastidio la storia con le rose. Ti fa piacere che mi avete fastidio. Eh, sei contenta? Sì. 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 Sì.